L'annunciato declassamento è arrivato ed è soprattutto la perdita della AAA della Francia a fare notizia, tanto da suscitare anche qualche protesta di piazza. L'agenzia Standard & Poor's ha diminuito il rating di nove paesi europei. In verde sulla carta quelli che conservano la AAA, in arancio quelli declassati ma ancora con una o due A, in rosso quelli che passano o restano in B. Il Portogallo è ormai a livello dei titoli spazzatura. Il governo francese tenta di sdrammatizzare, il downgrading era d'altronde atteso. Naturalmente non è una catastrofe, è come se uno studente abituato ad avere 20 ventesimi e che passa a 19 chiedete se è una catastrofe. No, è ancora un voto eccellente. Standard & Poor's ritiene che la reazione dell'eurozona alla crisi del debito sovrano non sia stata abbastanza efficace e compatta. Penso che siamo tutti interconnessi e quindi non siamo indifferenti a quello che succede negli altri paesi. Negli ultimi giorni la Francia ha ricevuto giudizi diversi da differenti agenzie. Credo che la Francia sia sulla strada giusta. L'Italia è tra i paesi che sono stati declassati di due gradini fino alla tripla B+. L'agenzia di notazione salva però l'azione dei primi mesi del governo Monti, a cui riconosce il coraggio delle riforme promesse e un'azione che potrebbe avere ripercussioni sull'intera Europa. Anche la Spagna è scesa di due tacche rimanendo a una sola A. Fonti del governo Rajoy affermano che il declassamento è conseguenza di un'eredità del passato.